La recente realizzazione della bozza dello stemma delle gonfalone del comune di Corigliano Rossano riflette un viaggio simbolico condotto dalla vincitrice del concorso, Tiziana Buongiorno, laureata all'Accademia di Belle Arti e bersaglio di alcune critiche nei giorni scorsi. Unendo i due stemmi eraldici l'opera offre una visione della storia e dell'identità delle città coinvolte. I simboli uniscono, nell'araldica si utilizzano determinati simboli che stanno ad indicare proprio l'unione di due stemmi araldicamente. Facendo una lettura dei simboli dello stemma di Rossano che sono la conchiglia e il giglio riusciamo a capire le origini quindi della città. Tra le critiche la scritta Corbonum. L'errore non errore è dovuto al fatto che innanzitutto all'interno degli scudi non è possibile inserire per una questione proprio tecnica araldica né scritte né numeri. Perché non sono state inserite le cornocopie? Non sono state inserite perché innanzitutto le cornocopie non fanno parte dei simboli araldici per niente ma sono una trascrizione errata di uno stemma già esistente a Corigliano. La ricerca storica sottolinea l'importanza di simboli come il patire, parte integrante della storia delle città. Patire perché prima di poter costruire lo stemma ho fatto uno studio approfondito della storia di entrambi i paesi. Il patire perché sorge, è un monumento che sorge sul territorio di entrambe le città, ha appartenuto per un periodo di tempo alla famiglia compagna e oltretutto nelle varie ricerche ho scoperto che alcuni resti del patire sono stati utilizzati nella chiesa privata dei compagna Sita in Schiavonea. Quindi è un bene assolutamente comune delle due città. Ma la nobiltà, l'aristocrazia da quale parte stava? Nei due ex territori. È chiaro che Corigliano ha un'origine nobile e se ne deduce anche dal logo stesso, dal simbolo stesso della città di Corigliano.